ciao amici oggi parliamo di grande fratello e del secondo finalista del reality show dopo beatrice luzzi chi sarà il prossimo concorrente ad accedere alla finale tra i nominati al televoto troviamo rosy chin anita olivieri letizia petris e paolo masella secondo i dati del televoto corrente sembra che anita olivieri sia in testa con il 47 per cento dei voti seguita da rosy chin al 37 per cento paolo masella si trova al terzo posto con il 10 per cento dei voti mentre letizia petris e ultima con solo il 5 per cento tuttavia bisognerà attendere la puntata dell 11 marzo 2024 per scoprire chi sarà il secondo finalista di grande fratello sarà confermato il pronostico ci saranno sorprese anita sembra avere tutte le carte in regola per competere con beatrice nella finale per il titolo di regina di cuori non vedo l'ora di scoprire come andrà a finire questa edizione di grande fratello restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e non perdete la prossima puntata del reality show condotto da alfonso signorini chi pensate che sarà il prossimo finalista fatecelo sapere nei commenti a presto con nuove anticipazioni e gossip dal mondo di grande fratello non vedo l'ora di scoprire chi sarà il prossimo vincitore grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!